Benvenuti su ClaudioMasci.com, in realtà sul canale youtube di ClaudioMasci.com perché questo video sarà solo per youtube, non è presente sul sito web Questo video è per ringraziarvi delle iscrizioni al mio canale, siamo arrivati a 2000 iscritti Quando l'ho creato in realtà non pensavo che sarebbe cresciuto tanto, in realtà non pensavo neanche di caricarci molti video L'idea iniziale era di averlo come appoggio al sito web, quindi doveva semplicemente contenere qualche video degli articoli presenti sul sito web Poi in realtà è cresciuto sempre di più, quindi è diventato quasi il centro degli articoli Infatti adesso praticamente non esiste un articolo senza il video su youtube Mentre inizialmente non era così, infatti molti degli articoli iniziali sono senza video Li sto rifacendo come ad esempio per chi vede il video proprio oggi nella data di caricamento Proprio oggi ho caricato il video di un articolo che non aveva video Quindi sto cercando di riproporre su youtube tutti gli articoli presenti sul sito web E quindi diventerà sempre più centrale il canale youtube per quello che faccio sul sito web o comunque tutte le mie attività online Inizialmente i contenuti erano pochi e caricati con poca frequenza Adesso invece cerco di caricare più contenuti a settimana Ancora non c'è uno standard fisso quindi non ho dei giorni stabiliti Anche se cerco di caricare più o meno, non dico tutti i giorni ma quasi L'unico giorno un po' prestabilito è il venerdì nel quale carico video relativi ai corsi Ultimamente o comunque la maggior parte dei casi relativi al C Sharp Ma in futuro magari ci saranno anche altri corsi Quindi diciamo che in generale il venerdì è riservato ai corsi Gli altri giorni sono un po' liberi quindi troverete diversi tipi di video Inoltre approfitto di questo video dei ringraziamenti per dirvi di alcune novità collegate in qualche modo al canale Non proprio specifiche del canale ma comunque in qualche modo collegate La prima è intanto per ringraziarvi per chi è interessato al corso di WordPress che ho su Udemy Ho aggiunto un codice sconto valido per 30 giorni che mette il corso a 12,99€ fisso Lo potreste trovare anche a meno in alcuni casi perché le offerte di Udemy sono automatiche quindi non le gestisco io Avrei voluto metterlo al prezzo minimo ma col prezzo minimo mi permetteva solo di fare un'offerta di 5 giorni E invece volevo, ci tenevo ad avere un'offerta per almeno un mese Quindi vi scrivo qui il codice che è valido fino al 27 novembre Quindi troverete utilizzando questo codice il corso a massimo 12,99€ Inoltre visto che me lo avete chiesto tante volte ma finora ancora non ero iscritto Ho aperto anche un server su Discord quindi potete contattarmi lì Vi metto il link su schermo ma lo trovate anche in descrizione quindi potete cliccare in descrizione per iscrivervi al canale e potermi contattare da lì Inoltre oltre a Discord ho già un canale anche su Telegram sul quale al momento pubblico i link degli articoli che pubblico sul mio sito web Quindi ho video su YouTube o articoli sul sito web In futuro, ma già è successo anche in passato, troverete sul canale Telegram anche i link di video che non posso caricare su YouTube Perché verrebbero bannati, ad esempio quelli su come scaricare musica e video che vengono bannati immediatamente Li troverete comunque sul canale Telegram o su qualsiasi altro canale social Quindi i link in generale ai miei articoli li trovate ovunque anche se non c'è il video presente su YouTube Per i link che non trovate in descrizione potete andare sul mio sito web e avete il menu sulla destra con tutti i link social Quindi da lì potete cliccare e andare su qualsiasi social collegato al mio canale Prima di concludere, ultima cosa riguardo invece il mio secondo canale, quello relativo ai videogiochi Gli ho cambiato nome da pochi giorni, ovviamente sempre per chi sta guardando il video appena caricato Magari se lo guardate tra qualche mese non l'ho cambiato da pochi giorni, l'ho cambiato da mesi Ma da adesso non è più Claudio Masci Gaming e non sarà più collegato a questo canale o al mio sito web Anche perché in realtà già da un po' non pubblicavo gli articoli collegati a quel canale sul sito web Ma l'ho scollegato completamente, infatti da adesso si chiama Eka Gaming È un canale a sé, quindi pubblicherò video di gameplay, principalmente infatti sto caricando quelli Continuerò comunque a caricare video su come fare delle cose relative ai videogiochi Ad esempio come installare le mod per GTA o pubblicato altre cose Quindi comunque qualsiasi cosa relativa ai videogiochi sarà pubblicato su quel canale Anche video sulle uscite dei videogiochi Quindi magari se c'è un videogioco gratuito continuerò a pubblicare i Games with Gold e i giochi del Playstation Plus Quindi giochi gratuiti tutti su quel canale Ma non sarà più collegato a questo canale, quindi non avrà più lo stesso nome di questo canale Ho cambiato anche logo, quindi completamente diverso Prendono due strade diverse i due canali, quindi non saranno più collegati tra loro Vi ringrazio ancora per la fiducia nell'esservi iscritti al mio canale, quindi per seguirmi E come sempre vi invito a commentare i video e scrivermi se c'è qualcosa che vi interessa Perché cerco sempre di accontentare le richieste, quindi mi fa piacere quando chiedete un articolo Quando chiedete qualcosa in particolare e cerco sempre di realizzare un video nel più breve tempo possibile Quindi cercherò ancora di continuare a farlo, quindi di seguire i vostri suggerimenti E portare avanti il canale in base alle vostre richieste, a quello che vi interessa E vi ringrazio ancora, quindi ancora duemila volte grazie Ci vediamo quindi al prossimo video